Surya un'antarota e re-nation di furai due spunti a Casteddo, a riseosi dei timi a facciappare con i giocatori di Cosa Nostra, che d'antivattus stringi snariasa, finzata adesso con menzio i dimoni su varianti scasteddai, non sa collare dei sostenitori di Sardos, si punti via giocata adesso con la manna, pusti vago un minuto sui barbo, si inceppa a pauno gol manno come ento una domo, boccia entra nel suo logo della ciappa boccia, e tocchi il geldo troppo leggero, che su scongorda giocoso adesso un Milan di bocchera non sa puntata adesso bei. Conti è tornato capitano e anima della squadra, con il suo esau, due sfurittus che hanno fatto a macchia i giocatori di Sarrubius e Niedus. Su gol è fattura a Cosansoro, Sauer scappato a curri e a manca, e quando avvio i barbo da ridonano la boccia di Licara e di Mira, che su colombiano non avrei sbagliao, ma nega ci che il gordo mio ha abbiati. Su Sant'Elia varia a fogo e entra a boccia a Bozau, donato e Balsano, po' vago non fare scoppiare il suo godo della saggente. Chi si prima era su minuto 34, quando Buonaventura, un nomine che per uscire insettano per gli arresti, incungere la sabboccia a Papasatecragno, che avrà a magliao e a faccia in terra. In questa seconda parte di questa partita, avuti per lo spago, se sboccia sono in gol di sinemigli, ma se a stamborrare dei conti, che ha rispizzato suvato e sabboccia a Chisau, a ridonare a Faria, se a Pagominutus e a Savini, può rientra regalare il suo castello e sabboccia da chi lo desidera. Su Riau, Corpuita, Criao, questo tavolo si descampara, ma si debbia diarelo sull'eggia.